RIDUZIONE DELLE LISTE D'ATTESE Salvini non si cambia, così da Tito è il capo politico del Movimento 5 Stelle. Abbiamo un contratto di governo, ha detto Di Maio, ma a livello locale tra noi e loro ci sono distanze abissali. Caduta di calcinacci dal ponte Musmeci a Potenza, Viale Basento bloccato per ore per consentire la messa in sicurezza dell'area. Col paccio della rinascita, Lago Negro e Biancorossi battono la prima della classe e confermano il sesto posto. Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione sulla nuova tv, lo avete sentito dai titoli. Il San Carlo e il CROB stamane hanno firmato un'intesa per la gestione delle liste d'attesa e per il contenimento della mobilità fuori regione. Sentiamo cosa prevede nel dettaglio nel servizio di Mariolina Notar Giacomo. Deciso cambio di rotta nel sistema sanitario regionale in tema di gestione delle liste d'attesa e delle prestazioni ospedaliere per il contenimento della mobilità passiva fuori regione. Azienda ospedaliera San Carlo, quelle sanitarie di Potenza e Matera e l'oncologico di Rio Nero lavoreranno in stretta sinergia per raggiungere gli obiettivi di salute così come disposto dal piano nazionale approvato un mese fa. I direttori generali del nostro comio potentino Massimo Barresi, dell'ASP Lorenzo Bocchicchio e dell'azienda locale di Matera Joseph Polimeni, che ha delegato il direttore amministrativo Raffaele Giordano, insieme con Giovanni Battista Bocchicchio alla guida dell'IRCS CROB di Rio Nero, hanno sottoscritto a Potenza due protocolli d'intesa interaziendali. Il primo definisce il programma di interventi da attivare per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati potenziando l'offerta di prestazioni, l'informazione ai cittadini e il monitoraggio delle attività e la verifica periodica dei risultati. In tal senso, entro il 30 aprile sarà istituita una task force per il governo delle liste d'attesa, deputata al monitoraggio sistematico delle azioni intraprese dalle aziende sanitarie e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti. Il secondo accordo tende a contenere la mobilità sanitaria ospedaliera passiva attraverso un miglioramento continuo della qualità delle cure e un aggiornamento delle tecnologie sanitarie a loro servizio. Anche in questo caso sarà potenziato il sistema di comunicazione alla popolazione al fine di recuperare e rinsaldare il rapporto fiduciario con le strutture di cura regionali. Si procederà inoltre ad una maggiore tempestività nell'accogliere e soddisfare il bisogno di salute espresso dai cittadini che significa adottare specifici programmi di ampliamento dell'offerta utilizzando tutti gli strumenti contrattualmente previsti. La fidelizzazione di tutti gli attori del sistema salute regionale, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, i professionisti che operano nelle strutture ospedaliere per meglio indirizzare la richiesta di prestazione dei cittadini secondo criteri di appropriatezza organizzativa e di appropriatezza clinica, ossia prestazioni di alta complessità verso le strutture regionali dotate delle tecnologie e delle professionalità adeguate. Tutto ciò, naturalmente, prevede l'attuazione di politiche assunzionali, tese ad attrarre professionalità di riconosciuta esperienza. Manifestazione a Serra Marina di Metaponto oggi promossa dal Movimento Riscatto di Puglia e Basilicata. Una decina di mezzi agricoli impegnati in un volantinaggio sono stati disposti lungo la strada statale 175 Metaponto Matera all'altezza di Serra Marina. A seguire l'assemblea per approvare il documento per la nuova riforma della terra e la conferenza stampa in cui le diverse realtà presenti sono intervenute per illustrare la natura della crisi agricola. Infine, il Movimento Riscatto ha promosso un'azione forte proprio per sensibilizzare sul tema della crisi. Sono stati tagliati gli alberi con i frutti che nessuno vuole comprare e sono stati buttati i prodotti che la speculazione del mercato non vuole pagare. Latte, legumi, cereali, frutta e verdure. Passiamo alla politica. Ci metto la faccia per dare ai Lucani una speranza contro chi grida alla pancia e vuole illudere questa terra. Sono le parole del segretario nazionale del Partito Democratico ieri a Potenza per un comizio a sostegno della candidatura di Carlo Trerotola. Il servizio è di Mara L'Isola. Datemi fiducia, tutto cambierà. Non ho bacchette magiche ma ho la passione e la voglia di cambiare questo paese. Ha scelto Potenza per la sua prima uscita ufficiale da segretario nazionale del Partito Democratico. Ha scelto Piazza Don Bosco per sostenere la candidatura a presidente della regione di Carlo Trerotola. Ed è stato un intervento appassionato, quello di Nicola Zingaretti. Sul palco insieme a lui Vito Giuzio, presidente regionale del PD e il candidato alla presidenza del centrosinistra Carlo Trerotola. La presenza di Zingaretti, ha detto Trerotola, è uno stimolo a vincere la sfida contro populismo e qualunquismo. Parole supportate dall'affondo che il leader nazionale ha fatto dai microfoni della stampa, giustificando il suo impegno in favore del centrosinistra Lucano. Soprattutto per difendere queste terre bellissime dalla propaganda e dalle bugie di questo governo, perché dicono prima gli italiani e in realtà poi a pagare sono prima gli italiani i danni di questo governo. E quindi c'è anche bisogno di girare l'Italia per una grande battaglia di verità. Una sfida, quella delle regionali di Basilicata, nella quale Zingaretti ci ha messo direttamente la faccia, un primo banco di prova per la nuova leadership del PD, in vista di un nuovo centrosinistra. In tutta la mia vita combatto, ho sempre combattuto, perché è giusto combattere ed è giusto essere vicino a chi nei territori combatte. Io ho chiesto ripetutamente anche a questa comunità di essere unita e di non dividersi. E anzi mi ha fatto piacere se forse quei miei appelli hanno avuto una risposta, perché mi sembra che ci sia stata la consapevolezza della necessità di cambiare pagina, di voltare pagina e di mettere in campo uniti una nuova proposta. Ora questa nuova proposta va premiata, perché ripeto, il vero pericolo in questo momento è che anche la Basilicata cada nelle mani di chi le persone le usa, le sfrutta per chiedere voti, ma poi le penalizza e le umilia con le politiche che stiamo vedendo. Ed è tornato in Basilicata il vicepremier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. Se la Lega si è presa agli uomini di Pittella, ha detto stamane ai giornalisti, come possiamo considerarla il cambiamento al governo? Abbiamo un contratto, ma a livello locale tra noi e loro ci sono distanze abissali. Il cambiamento, ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle, non possono essere loro. Oggi Di Maio ha partecipato ad un incontro a Tito, stiamo vedendo le immagini dopo il tour di ieri nel Materano. Nel pomeriggio Di Maio terrà due incontri con i cittadini, a Lavello alle 15 e a Melfi alle 18.30. Intanto il candidato presidente Antonio Matti ha fatto sapere di aver definito la lista degli assessori in caso di vittoria alle elezioni. Maurizio Lazzari e Sandra Iacovone saranno assessori all'ambiente e all'agricoltura. La squadra di governo sarà composta anche da Pietro Desarlo, assessore allo sviluppo economico, Tiziana Doffido alla cultura e un magistrato in servizio a potenza per la sanità. E continua la campagna elettorale del candidato presidente della lista, la Basilicata Possibile Valerio Tramutoli, a sostegno del suo programma, l'ex ministro delle finanze greco, diventato attivista politico. Il servizio è di Michelangelo Russo. Anche il candidato governatore della Basilicata Possibile ha un supporter di peso. Yanis Varoufakis, leader del movimento DiEM25, ha diffuso un video per testimoniare il sostegno al progetto politico lucano che aggrega forze civiche e ambientaliste. Molti fuori dalla vostra regione non lo sanno, ma la Basilicata, ha affermato, è la più grande riserva petrolifera d'Italia, dove si estraggono il 70,6% del petrolio e il 14% del gas italiani. Un programma come quello di Valerio è quello che serve a territori come il vostro, dice Varoufakis. Qualcosa di realizzabile in dieci anni è in grado di trasformare la Basilicata in una regione a zero emissioni, a una regione carbon free, con una forte spinta verso l'elettrificazione dei trasporti, un incentivo incredibile alle fonti rinnovabili. Tutte cose in grado di ridare immediatamente un forte impulso all'occupazione. Agenda fitta di appuntamenti, intanto per Valerio Tramutoli, che nelle scorse ore è stato ricevuto nella sede della CIA ed è stato ospite di un'assemblea pubblica a Pisticci organizzata dagli attivisti di Altra Agricoltura. Nel pomeriggio si è invece recato presso i locali del CSV, dove è andato in scena un confronto pubblico con i rappresentanti di Libera Scienza. E infine tappa Lauria nell'area sud-occidentale della regione per parlare ad elettori e simpatizzanti in compagnia della candidata consigliere Annalisa Pierro. Nelle prossime ore invece Tramutoli sarà Maratè e Rivello per incontrare cittadini ed elettori insieme con le candidate e i candidati della lista alla Basilicata possibile. E proseguono sulla nostra emittente interviste e confronti in vista delle elezioni regionali del 24 marzo. Nel nostro palinzesto oggi alle 15, il duello tra Mario Guarente per la coalizione di centrodestra e Teresa Lettieri del Movimento 5 Stelle. Il confronto condotto da Celestino Benedetto andrà in onda in replica alle 17.30, alle 21.30 e alle 23.30. Alle 16.30 intervista del collega Fabrizio Di Vito a Valerio Tramutoli per la presentazione della lista Basilicata possibile. Repliche alle 19.30 e alle 21.30. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E dopo la pubblicità ripartiamo dalla cronaca. Incidente sul lavoro in un cantiere a Matera. Un operaio 44 anni che ha riportato un trauma cranico a seguito di una caduta è stato trasferito d'urgenza dalla personale del 118 all'ospedale Madonna delle Grazie con un codice giallo. Si intitola verso un nuovo welfare il documento indirizzato ai candidati alle elezioni regionali presentato ieri a Potenza da un gruppo di associazioni che operano sul territorio lucano. Ce ne parla Rocco Romanelli. Più attenzione al welfare in Basilicata nel rispetto dei diritti civili e umani in attuazione dei principi della Costituzione italiana. La proposta indirizzata ai candidati alle elezioni regionali del 24 marzo arriva da un gruppo di associazioni che operano sul territorio lucano. Il documento verso un nuovo welfare è stato presentato in una conferenza stampa nella sede dell'associazione insieme a Potenza. Presupposti importanti per implementare il welfare si legge nel documento sono la territorializzazione e l'integrazione tra i servizi pubblici e del privato sociale. Noi chiediamo oltre che il discorso della coprogrammazione e coprogettazione anche di cercare di rivedere alla luce di alcune situazioni che si sono verificate specialmente in quest'ultimo anno, di rivedere un attimo quelli che sono i piani socioassistenziali e sociosanitari. Le proposte contenute nel documento riguardano l'implementazione dei servizi socioassistenziali e socioeducativi, le procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture sociosanitarie, il settore immigrazione e quello delle dipendenze patologiche. Nel settore della sociodicpendenza c'è molto ancora da fare perché sono state sì delineate le linee guida rispetto a questo settore dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei servizi, però in realtà siamo fermi al 1999 in cui noi abbiamo solamente due tipologie di comunità e non siamo riusciti ancora ad avviare i nuovi servizi in questo settore, c'è tutto la new addiction, ci sono tutte le nuove droghe, le nuove dipendenze, c'è anche tutto il discorso del gioco d'azzardo patologico che deve essere adeguatamente affrontato. La Guardia di Finanza di Mater ha sequestrato un ingente quantitativo di merce non sicura, oltre 120 mila articoli tra bigiotteria, orologi, calamite ma anche prodotti per la cura della persona. Al termine delle attività condotte dalle fiamme gialle sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 20 mila euro. Caduta di calcinacci dal ponte Musmeci a Potenza, Viale Basento è rimasto bloccato per ore per consentire la messa in sicurezza dell'area. Sul posto ieri pomeriggio i vigili del fuoco impegnati a rimuovere i pezzi di intonaco caduti dalla parte superiore del ponte. da quanto si è appreso, i distacchi sono cominciati al mattino. Immediatamente sono stati allertati gli uffici tecnici del Comune e l'Asi. L'Ufficio Protezione Civile del Comune rassicura se trattato di una caduta diffusa di intonaco proveniente da precedenti interventi di manutenzione. E siamo allo sport, parliamo di volley in serie A2. Col paccio della rinascita a Lago Negro, i biancorossi battono la prima della classe Mondovi in tre set confermando il sesto posto. Vediamo risultati, classifica e il servizio di Luigi Santopietro. I risultati della ventiquattresima giornata del girone bianco di A2. Lamezia Spoleto 1-3, Santa Croce batte Alessano 3-0, Lago Negro supera Mondovi 3-0, Macerata piega alta e break Reggio Emilia 3-2, Roma Leverano 0-3, Potenza Picena batte Livorno 3-2. Ha riposato Brescia. In classifica Mondovi sempre prima con 54 punti, seguita da Brescia a 46, Accorcia Reggio Emilia a 44, tallonata da Spoleto a 43, Potenza Picena a 41, Sesta Lago Negro con 37 punti, seguita da Santa Croce a 34, Livorno 32, Macerata 31, Leverano 23, Alessano 19, Roma 17, Lamezia chiude con 8 ed è retrocessa. Una vittoria di prestigio ma utile anche in chiave classifica. Il Lago Negro batte la capolista Mondovi e rinforza la sesta piazza. A due giornate dalla fine è utopico pensare al quarto posto distante giusto 6 punti e servirà un miracolo per il quinto, quattro lunghezze di gap, ma intanto i vannoscini si sono tolti lo sfizio di battere il Mondovi che per una volta ha smesso di essere il rullo compressore. Falabella sceglie l'ormai consolidato sestetto, Pedron Kadankov, Kalabinov Barreto, Marra è calonico al centro, libero Sardanelli ad alternarsi con Fortunato. Inizio di match equilibrato fino al vantaggio di due lunghezze per gli ospiti. Pedron e compagni però non si lasciano intimidire, il pareggio arriva sull'undicesimo punto. Provano nuovamente a scappare gli ospiti, i mevalnocini prima li agganciano poi vanno in fuga. Due punti di vantaggio che restano fino alla fine con Kadankov che chiude il set con un ace. Il secondo tempo inizia con la scia già tracciata da Kadankov che continua a fare punti al servizio sostenuto da Galabinov e Barreto. Un primo vantaggio della Geosat si azzera con un break degli ospiti e il set poi procede punto a punto. Equilibrio rotto nel finale, Marra si fa trovare pronto e si va sul 23-21, poi Barreto distrugge il muro avversario e anche il secondo set della Geo Vertical. Nel terzo set sono sempre gli uomini di Falabella a fare la voce grossa contro un Mondovì spaisato ma che resta in gara fino al 19-17. Nel finale Galabinov è inarrestabile, Barreto e Calonico non sbagliano un colpo e chiudono set a 20 e partita sul 3-0. Un'ultima notizia di cronaca in chiusura. Due persone di 28 e 55 anni sono state arrestate dalla polizia a metà ponto di Bernalda perché trovate in possesso di 100 grammi di marijuana e due hanno precedenti di polizia. Nell'ambito della stessa operazione è stata deferita in stato di libertà un'altra persona trovata in possesso di 60 grammi di sostanza stupefacente. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.